MTV, non farla timida, vedo che sei curiosa. Guarda un po', il mio motto. Passione, umiltà, ironia. MTV, ti sei mai vista in un 87 pollici? Adesso ti vedrai qua. Vieni, vieni MTV, vieni pure. No, non ti preoccupare, non ti ho portato in un magazzino vuoto, eh. Guarda un po'. Finch. Frutta e verdura. Un po' di verdura fa sempre bene. Anche perché sinceramente ogni tanto non è che posso mangiare sempre schifezze, devo mangiare un po' sano. Qui abbiamo lingerie, bianca, red, carne e non solo. Panties a volontà. Vieni MTV, questo non l'hai mai visto nelle altre case. Me l'ha consegnato direttamente il presidente della Repubblica Mattarella. Ci stiamo a fartelo vedere perché è una cosa veramente, veramente bella. Quando uno è un po' più stanchino, The Bridge, non lo dimenticare.